Stiamo parlando di cose impulsionali, cioè come se vai a fare una denuncia. Allora, l'ARPA è il carabiniere dei campi elettromagnetici, di tutto l'ambiente, ma dei campi elettromagnetici è l'ARPA. Se l'ARPA ti dice che non ci posso fare niente perché non so neanche se questo qua c'è la refurtiva in casa e io non so queste collarine d'oro che c'è in mano di chi sono, beh, se ti dice così allora... Andiamo sui siti? Andiamo eh? Ok. Vedi con me? Sì, si va in macchina. Sì, si va in macchina, ma... Se no, scolta, io l'ho messa dopo l'antenna, è super posto, ma... Ma anche lì da lui, di dietro lui. No, c'è ne va poco, siamo sotto l'antenna. Dopo me dice, glielo guardo. Mi chiama lei domattina perché sono in viaggio. Sotto sotto è normale per te. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Mi tocca anche lavorare ogni tanto. Qui siamo a 3. Allora... Qui siamo a 3,8, 3,6. Sì, ma la zona massima esposta sono quelle case. Sì, mi sono andato con il tuo mese. No, è la casa della signora al posto. Andiamo a vedere. Comunque qui siamo intorno ai 4 volte meno. E siamo a ridosso. Dentro c'è il fornetto, tiene 7 ore, dopodiché sgancia la frequenza e si spende. Sì? Sì, perché questi qui vanno in isofrequenza, per cui hanno bisogno del sincronismo. E quello lì è un ricevitore satellitare, becca al GPS, te gli spacchi quello, il GPS si sgancia. Quello lì? Quel tappuccetto lì. Per il cappuccetto quella specie suppostina. Sì, sì, va in onda. Siamo qua a 4,5. 4,5. Siamo sotto? Che vuol dire? Che siamo al massimo della potenza qui? No, no. Il massimo è dove... O su lì. Quelle le distanze medie. Infatti anche l'altra volta sotto dava valori... Dava valori un po' più bassi. Perché sotto sì, perché praticamente... Sì, sono lunghezza lunghezza. Perché praticamente sì, come direzione diciamo è in alto, no? C'è la varia. Come raggio... No, qui parte che qui non è un po' neanche significativo. No, qui è significativo. La casa va che c'è una mamma che ha due banditini. Andiamo a dire la, andiamo a dire la casa. L'altra volta c'è la 6... È 2,5, 2,6. No, però, andate, andate, andate. Aspetta, no, facciamo così. È 2,7 con la finestra aperta. Quattro. No, ora è lui che... Allora chiudi. 2,20, sì. Un pelino. Sì, poi apriamo, apriamo. La vedi? Sì, sì, la vedo. 246 3 ora no, ora non la considerare c'è il movimento vai ecco siamo a 6 siamo a 6 siamo sul davanzale, sulla superficie esterna siamo sul davanzale il tappeto qui dove finisce questa cosa del tappeto ancora va bene ma se vi avvicinate di più 11, 19 aspetta aspetta questo non l'ho mai misurato sto valore 250 ma perché è questo? è perché è l'elettronica che gestisce il televisore è tutta concentrata lì ma se ti ci metti lì per un po' che mori la potenza su questi grossi è nevata ma che mori se ti metti lì per un po' che mori ma mori, non è che mori ma diventi come a me con i capelli belli con la testa bella ma che mori da quella giornata ma anche perché l'ho i capelli fai sempre intorno qua è vero, è vero, è vero è vero, è vero qui c'è meno elettronica del 12 vedi di là è 150, 180 è una roba è una roba quindi qui ci deve mettere il nastro qua c'è noi qui devo usare le pulsate e guarda sempre gli appunti la pulsante usa il telecomando usa il telecomando, è che è meglio che funziona? trovi anche più le piste cioè questo con queste elevate ma finisci qui praticamente ma a 2,40 che può succedere? cioè esposizione elevate a 2,40 avrebbe visto qual è la frequenza prevalente però è un valore totale è un valore totale interessante anche se qui a chiacchierare dove sono io io metto lì e chiacchiero e c'è 4,40 6 che schermava dai campi elettromagnetici e dai nodi di Atman i famosi nodi di Atman i famosi nodi di Atman sono nodi che questo tedesco Atman si è immaginato ma insomma di cui non c'è un'evidenza scientifica ci vengono i materassi quei nodi di Atman ci vengono però i materassi 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 tra le metodi è male tanto è vero che nel giro di tre mesi vennero tre produttori a far misurare le loro stuoi e a tutti gli dicevo mi trovi i nodi di Atman qui o vennero qualcosa con i pendolini con le bacchie o le trovavano? tutti parlo in punti diversi sono certo è qui io segnavo dove sono? è lì scusa scusa valentina valentina la ringhiera fa l'antenna 14 siamo a 14 ma la rimanda alla ringhiera sa? è la ringhiera di ferro la ringhiera la rimanda fa l'antenna l'amplifica signora qui va messo la ringhiera di legno la ringhiera di legno o di muratura o di legno perché è proprio l'antenna guarda fa l'antenna guarda fa l'antenna fa l'antenna la ringhiera vuole vedere? ecco e se mi alzo soprattutto è questo il problema mi appoggio? 10 no no se si alza poi non lo scavo dovrebbe aumentare se io mi alzo e invece diminuisce perché mi sto allontanando dalla ringhiera quindi questa risuona questa la la metta di legno un numero pari di lunghezza d'onda 16 15 queste 11 12 10 questa cosa è ganzissa 15 questo qua questo è più sottile meno rivedenza emana di più questo va messo in legno guarda guarda hai visto lo stendino ma vedi che la lunghezza è come quella della ringhiera per sapere infatti questo è un landa quarti di qualche armonica guarda lì qui mettisano il panno cioè qualunque cosa metallica orizzontale qui di questa lunghezza è diventato ah beh lì erano qui dove si è migliorato tanto in questa zona qua qui si ci sono mi avevano aggiunto qualcosa no no ma sembra una che spinta la scuola 60 o qualcosa del genere quanti dati che qualcosa l'abbiamo spinta eh qualcosa che non serve per il momento comunque qui è altino è qua alto se la baracca di metallo che magari spinge qualcosa non credo ci siamo in visibilità 3,6 con abboni di carcere fa la baracca di metallo fa fa capito qua c'è 2,5 insomma 2,0 e alto e se ci si avvicinano alla schermatura non ci si dice di più di un colpo 2,2 comunque c'è meno qui è messa a terra la schermatura è messa a terra però c'è 1,5 1,4 ora vediamo però qui c'è 3 caspita qui c'è 4,4 4,4 c'è fuori 8 è tante roba qui 9 9 hai ragione 4 aspetta guardiamo eh non ti capisco perché tu mi hai estrenata è estrenata 4 e mezzo 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 ma dipende da questo no 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 10 meraviglioso 10 10 ah c'è un po' c'è un po' c'è un po' cos'è potete fare 10 9 10 10 lì 10 lì ah perché ci sono due cavi uno che arriva e uno che esce no no è un fanaspira quello lì fanaspira per dire aspira meraviglioso sì magari sarà in bassa frequenza 17 guardate che se no questo qui dovrebbe però quella sonda lì misura a 100 kg verso il minimo sì 14 qualcosa sarà dritto sì qualcosa saprà anche sulla bassa frequenza quindi è tanto però eh questa è la camera vostra devo vivere sì quanto c'è però se apri la finestra non è 4 non è 5 eh sì questo è ferro sì sapeva eh sì sì questo è a bassa quello è a bassa perché c'hanno l'alimento di regolatore sviluppo dice che vanno tolte sì vanno tolte vanno tolte nooo ci sono quelle dell'aslam che costano